Ecco Ok Ok Eccola là Ecco fatto Esatto Giù la testa per favore Cerca di toccarti i piedi Andando giù Allora la mobilità è Vedi un po' ridotta Quindi c'è una diminuzione Della capacità Delle elasticità Ok Gira un attimo la testa Verso di qua E c'è Diciamo la mobilità Ma non liberissima A livello muscolare Qui c'è molta più difficoltà Lo senti? Fammi vedere la lateralità Ok? E' male se faccio così Se faccio dall'altro lato Guarda Mi tira un po' Tira un po' di più E' vero? Dammi le braccia di nuovo Mi stringi i denti forte forte Spingi in alto Ok qui non c'è niente di particolare Guarda il mio dito per piacere Spingi in alto Anche qui non c'è niente di particolare Un pochino più in alto E metti le braccia Sui poggiabraccia Che vedi qui giù Ok? Così E' parecchio importante La dismetria a destra Si vede subito Mettiamo un cuneo In questa posizione Un cuneo In quest'altra posizione E ricontrollo Se ci sono effettivamente Delle correzioni Come si può vedere I cunei subito Correggono il bacino Ok? Uno shock Tra virgolette Ora si riscalderà molto Morbida morbida Faccio tutto io Eccolo qua Mi devi fare un bel respirone E sentiremo il piccolo click Totalmente indolore Rilassati bene Butta fuori l'aria Butta 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 Ecco fatto Ecco fatto Ecco fatto Hai visto un po' Mi dai guarda il braccio Lo teniamo ora Così E andiamo a sbloccare Anche la nostra scavola Morbida Morbida Ecco fatto Questa era terrificante Una cosa terrificante Morbida Proprio qua Benissimo Adesso si che sei libero Però eh Questo dovrebbe già essere Molto più Di zero Arriba Abbiamo uno squilibrio Anche sacrale Qui Allora guardate un po' Se io tocco questo punto qua Ti fa male Diciamo poco Giusto Se io metto un magnete Guarda Nell'aria coccigia Qui Se io ripremo qui Ti fa più male Molto più male Tra queste due aree Giusto un altro Va bene Togliamo uno Togliamo due Vado a stimolare Il crociato Ok Spingiamo in alto E subito Cedi Io vado di nuovo Un attimo A stressare Il tuo povero crociato Spingi in alto Qua cedi di nuovo Spingi E qua non cedi subito più Adesso mettiamo Così subito Deve urlare Cinque secondi di dolore Ok Tre Quattro Cinque E fallo Questa torsione Voglio controllare Delle aree Innanzitutto Non so se Ti rendi conto Quando io tocco Vedi i muscoli Come sono rilassati Esatto Allora guarda Devi mettere Questa mano Così Ok Questa Allo stesso modo Sinceramente Mi fai un bel respirone Rilassati completamente Butta l'aria Un bel respirone Lascia la testa Morbida Morbida Butta l'aria Morbida Eccola là Sei viva? Sì Sei viva Gira la testa Verso la tua Sinistra Così Ecco qua Guarda qua Che brutto Mettiamo Guarda la testa Così L'ultima volta Respira Butta l'aria E senti un click Ecco fatto Scusami Che era un pochino Più dolorosa Questa Oh finalmente Allora Faccio male Se premo qui Vero? Un pochino Dall'altro lato Guarda Se premo qui Fa molto più male Addirittura Mi fai vedere una cosa Guarda Mi dai le braccia Me le tieni dritte dritte così Spingi verso il tetto Vedi che Spingi forte Vedi che Proprio non ce la puoi fare Ma un po' Esatto Morbida Ti dimostro che Questo dipende dai piedi Morbida Uno Queste ossicine qui Eccola là Ora faremo Le tipiche cose Che spaventano Agli zi Radiologi Allora Mettiamo così Non mi aiutare Farò Ok Esatto La prima cosa Mi hai aiutata Ti preoccupare Morbida Ecco fatto Dall'altro lato Guarda Tieni la mano Morbida Ecco fatto Stramissima la sensazione Vedi Pancia in su Morbida Eccola là Mazza come era bloccata Morbida Piega Direi che adesso Vanno un po' meglio No Ho bisogno un attimo Che mi dai le braccia Di nuovo Ti posso chiedere Tocca le spalle Abbraccia le spalle Però Tienile comunque Rilassate Va bene Morbida Ecco fatto Ci mancava Quella vertebra Lì Ti posso chiedere Di venire in piedi Mi dispiace Ci mancava Ci mancava Ci mancava Grazie a tutti.